Il gol di Ceccarelli È arrivata la vittoria Adesso mancano un paio di partite Dobbiamo giocare così Abbiamo giocato una grande partita L'Inter non dipende soltanto da se stesso Perché dipende anche dalle squadre che ha davanti Adesso il cammino com'è per voi? Sì, è difficile, è difficile Come dici te Vediamo come va oggi Eudi nel Asio Che è un'altra partita importante E dopo, come ho detto prima Continuare a giocare così Che stiamo giocando bene Ti aveva predetto qualcosa a Forlant Visto che hai fatto tutto il campo Per andarlo a ringraziare Sì, sì, sì No, l'ho detto L'ho detto che se facevo il gol Lo venivo a prendere lui Ti voglio che il periodo più brutto Per te è passato adesso Sì, sì Si può dire che sì Però no Adesso penso al futuro Pensi anche a rimanere all'Inter L'anno prossimo? C'è la possibilità di essere riscattato? Sì, sì Speriamo Grazie 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 a tutti